Previsioni per oggi al mattino in pianura schiarite alternate a nubi sparse in montagna schiarite alternate a nubi sparse Nel pomeriggio in pianura schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali in montagna nubi irregolari contemporane Previsioni per domani al mattino in pianura bel tempo con cieli sereni in montagna parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti Nel pomeriggio in pianura bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni